I-Farming vince il premio per innovatori sostenibili nella categoria start-up. Ci racconti un po' che tipo di azienda è e quale progetto avete portato e col quale avete vinto. I-Farming è una start-up innovativa che ha un anno e si occupa di agricoltura di precisione, si occupa di rilevare dati dal campo, elaborarli, elaborare modelli e dare un supporto a chi lavora in agricoltura in termini di informazioni già elaborate per poter poi fare delle azioni in campagna. Rileviamo dati meteorologici, rileviamo dati sulle condizioni del terreno, rileviamo in continuo l'accrescimento dei frutti, quindi monitoriamo per esempio con dei dispositivi particolari come il calibro di un frutto aumenta millimetro per millimetro in continuo. Tutti questi dati confluiscono in una piattaforma che abbiamo realizzato e questa piattaforma è a disposizione dei nostri clienti che analizzano i dati, li consultano e su questo traggono informazioni per poi fare le attività.